Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Utrend, Sky TG24. Intenzioni di voto politiche nazionali. Fratelli d'Italia cresce dello 0,6 e va al 27,7. Forza Italia cresce dello 1,3 al 7,9. La Lega scende dello 0,6 al 7,5. Noi moderati crescono dello 0,3 al 1%. Totale centrodestra più 1,6, 44,1. Partito Democratico in discesa dello 0,1 al 19,8. Movimento 5 Stelle in crescita dello 0,1 al 16. Stati Uniti d'Europa 4,6 scende del 2,3. Verdi sinistra 3,9 scende dello 0,7. Azione 3,1 scende dello 0,6. Pace e terra dignità 2,2. Nuovo partito. Libertà nuovo partito 1,6. Un altro partito 4,7 scende dello 0,2. Indecisi più astenuti 40,7% meno 2,9. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.